Coscienza Svizzera ha il piacere di incontrare il Presidente della Regione Lombardia Formigoni sull'attuale tema dei rapporti fra Svizzera, innanzitutto Svizzera italiana e Regione Lombardia. Presidente Formigoni, cosa può dirci a proposito dell'evoluzione dei rapporti fra Lombardia e Svizzera e Svizzera italiana? È un'evoluzione molto positiva, straordinariamente positiva, sia tra la Lombardia e la Svizzera in genere e soprattutto con la Svizzera di lingua italiana. Questo direi per una serie di ragioni storiche, caratteriali, che ci contraddistinguono. Siamo vicini geograficamente, siamo vicini culturalmente, siamo vicini per interessi economici, siamo vicini per affinità, per amicizia e quindi c'è questo substrato di base, questa componente umana dei nostri rapporti che facilita molto un interscambio crescente sia nel campo economico, sia nel campo culturale, sia nel campo della prossimità. Ho il piacere e l'onore di dire che la mia amministrazione, la mia Presidenza di Regione Lombardia ha voluto mandare ulteriormente avanti questa collaborazione. Noi per esempio con il Canton Ticino collaboriamo da anni, abbiamo anche firmato degli importanti accordi, mi permetta di consultare gli appunti, voglio citare in particolare il memorandum d'intesa che abbiamo siglato nel gennaio del 2008, Regione Lombardia e Canton Ticino, con l'obiettivo di sviluppare la collaborazione in molti campi, praticamente in tutti i campi, da quello economico, a quello sociale, a quello culturale, a quello dello scambio delle best practice amministrative. Una attenzione particolare l'abbiamo data al tema delle infrastrutture e della mobilità. È stato avviato il progetto del tunnel Alp Transit, sono stati attivati interventi per migliorare il sistema ferroviario di collegamento tra le due aree, è stato favorito un accordo tra il gruppo delle ferrovie nord e l'azienda elettrica ticinese per la realizzazione di un elettrodotto di interconnessione tra le due reti, quella svizzera e quella italiana, in particolare lombarda. Non ci siamo fermati qui, abbiamo voluto anche firmare degli accordi specifici in una serie di campi, anche qui nel segnalo 2 in particolare, un accordo operativo nel settore del trasporto pubblico, è un accordo operativo in materia di salute e di scienze mediche, quindi sia con attenzione a quello che si sviluppa sul territorio, sia con attenzione a quello che si sviluppa in una delle branche più evolute, più avanzate dell'impegno imprenditoriale dell'attenzione ai cittadini, come quello della salute per i cittadini. Ma abbiamo come Lombardia lavorato anche con il cantone dei Grigioni, cooperiamo lì in maniera indiretta, ma molto consistente, soprattutto nell'ambito del programma Interreg di cooperazione trasfrontaliera, che per il periodo 2007-2013 ha individuato come priorità di azione ambiente, qualità della vita e competitività. In sintesi, io credo di poter dire che in questi anni abbiamo lavorato bene, abbiamo lavorato molto, abbiamo fatto compiere passi avanti al dossier dei nostri rapporti, certamente questo è prodromico anche di un ulteriore aumento della nostra cooperazione, io resto sempre convinto che dobbiamo coltivare buoni rapporti tra gli Stati, ma che i rapporti buoni tra gli Stati sono favoriti da buoni rapporti tra le regioni confinanti, ci sono alcuni problemi che noi qui sul territorio possiamo capire molto meglio che nelle nostre capitali, questo credo che possiamo dirlo che vale sia per Roma sia per Berna e quindi l'apertura a collaborazione interiore ci troverà sempre disponibili e interessati. Ecco, certamente, ci sono già delle interconnessioni concrete sul territorio, come ad esempio la regione in Subrica, cosa mi può dire al proposito? Ci sono state anche delle tensioni, lei come vede l'avvenire della regione in Subrica e di queste interconnessioni concrete già territoriali che ci sono, che però presentano alcune... Ma io la vedo positivamente, nel senso che è evidente che ci possano essere dei momenti di discrepanza d'opinione, anche collegati alla situazione economica che stiamo attraversando, non facilissima, le tensioni a cui lei fa riferimento nascono proprio da considerazioni di questo tipo, però ci sono anche fenomeni positivi in atto, ne voglio citare uno in particolare, il lavoro portato avanti da Regione Lombardia per sostenere interazioni e scambi tra imprese italiane e delvetiche, ad esempio presso la Camera di Commercio di Como abbiamo costituito un tavolo tecnico permanente per ciò che riguarda le prestazioni di servizio che vede la partecipazione e la collaborazione delle associazioni di categoria e degli enti coinvolti proprio per rendere più fluido il rapporto una volta di più tra Lombardia e Svizzera e tra appunto le aziende, i protagonisti, i cittadini, quindi anche per quanto riguarda la Regione Subrica credo che dobbiamo andare avanti in questa direzione, l'esperienza fatta è complessivamente positiva e la volontà che riscontro sul territorio è quella di farla crescere. Ecco, il filosofo ginevrino Denis de Rougemont ebbe a citare le cicatrici della storia in occasione dei grandi conflitti mondiali, queste cicatrici si vanno rimarginando, però ci sono molte persone che vedono ancora i confini come proprio delle cicatrici, che sembrano quasi insuperabili, da quello che lei mi ha appena detto la sua visione va oltre queste cicatrici? Io credo di sì, da una parte appunto le cicatrici della storia sono un retaggio storico, si sono molto rimarginate queste cicatrici, dobbiamo lavorare perché si rimargino completamente. Oggi passare dall'Italia alla Svizzera costa un rallentamento nel traffico stradale o autostradale, non di più, certo ci sono frontieri in Europa che invece vengono superate senza rendersene conto all'interno dell'Unione Europea, ad esempio così è o così dovrebbe essere. Tuttavia non voglio evacuare il tema importante che lei ha detto, noi dobbiamo, io credo, vincere questa sfida, che è quella da una parte di mantenere, valorizzare le differenze culturali che esistono tra di noi che esistono in Europa, cioè i portati delle tradizioni popolari, dall'altra parte favorire, esaltare l'interscambio, per cui appunto non venga più percepita una differenza che sa di ostilità o sa di difficoltà di rapporto, ma ci si renda conto tra cittadini d'Europa di poter veramente dialogare all'interno della stessa famiglia, cantare all'interno dello stesso coro, seppure ciascuno canta la nota che più gli è congeniale, ma il suono complessivo è quello di un'armonia che si sviluppa. Questo è l'obiettivo che credo deve vederci tutti impegnati. Ringraziamo molto il Presidente Formigoni, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.